un caro saluto nel video quando la realtà supera ogni complottismo da extrapedia.org dove mi sono limitato a riportare la schermata dell'articolo nessuno è andato a leggerlo dove si legge tre aerei a turboelica senza alcuna targa in chiaro che dopo le segnalazioni pubblicate hanno staccato l'adm ovvero il segnale che permette il riconoscimento identificativo e tracciamento del volo è iniziato l'accanimento di scrivere che l'aereo è per il ponte radio del giro d'italia ma nessuno in grado di fornire le info correttamente tutti che scrivevano che ho torto ma nessuno che ha avuto le palle il coraggio la capacità di dimostrarlo e così l'ho fatto io per dimostrarvi che ho torto ma vi dimostro anche cosa significa essere un libero ricercatore pertanto smettete di venire a commentare se non siete nemmeno in grado di dimostrare quello che scrivete trovate i link nella descrizione del video